Villaggio saggio, esperienze e nuove prospettive per trovare saggi equilibri di economia circolare locale tra persone e comunità. A cura di Cristian Tava. Ciao Cristian, bentrovato. Oggi sono io che intervisto te. Senza troppi giri di parole, da quando ti ho conosciuto ho percepito una fortissima presa di posizione nei tuoi confronti per il tema della mobilità sostenibile. Mi piacerebbe molto stuzzicarti su questo tema, perché la fai facile, ma nel mondo occidentale l'auto è diventato ormai un bene essenziale, una priorità, e tu molto facilmente pensi che le persone ne possano fare a meno, secondo me. Pensavo potesse essere una repulsione iniziata quando eri piccolo, sai, di solito si regalano le macchinine, ai bimbi, come giochi. Magari tu ricevevi bici, trasporti pubblici. Ciao Simona e grazie per questo invito a nozze. E vorrei iniziare col precisare che non sono un anticonformista a tutti i costi, per forza. In realtà sì, ma cerchiamo di non dirlo a nessuno, quindi andiamo oltre con questa intervista. Cerco di guardare le cose secondo una logica, e soprattutto una dinamica che mette l'uomo al centro. Iniziamo col capire perché ci serve l'auto e perché è diventata così importante nella nostra vita di tutti i giorni. Poi ragioniamo su quanto spazio fisico occupa nella nostra vita, nel nostro ambiente, pensando a tutto quello che riguarda il mondo dell'auto. Ed è un'enormità rispetto al vero vantaggio che ci dà e rispetto alla quantità di inquinamento, tra virgolette, che produce in tutti i livelli. Non solo l'inquinamento da tubi di scarico, ma in generale. Pensiamo inoltre che la produzione di auto, i concessionari, i meccanici, i carrozzieri, gli autolavaggi, i centri per la revisione e molto altro. C'è un universo che noi in realtà diamo quasi per scontato, ma che produce comunque diversi tipi di inquinamento. Senti, ti va di raccontarmi un po' cosa è cambiato nella tua vita per prendere questa decisione. Certo, allora un giorno ero di che pensavo, riflettevo, rifletto troppo forse, su quanto l'auto e tutto il sistema auto che dicevo poco fa sia la scusa ufficiale per non cambiare mai le cose. Infatti se noi potessimo calcolare la mole di denaro, la mole economica che viene mossa da tutto questo business, con la stessa mole di soldi noi potremmo creare nuovi e più efficaci sistemi di trasporto. Questa è stata la prima illuminazione, se vuoi, che è nata nella mia testa, perché quello che ci chiediamo sempre è non possiamo fare questa cosa perché servono tanti soldi. In realtà i soldi ci sono, sono semplicemente allocati da un'altra parte. Ci hai raccontato le tue motivazioni e effettivamente hai ragione le ore passate nel traffico, il tempo è prezioso nelle nostre giornate di solo 24 ore e questo è un ottimo modo di sprecarlo inutilmente senza contare le emissioni, appunto un mondo dietro a tutto questo, ma vorrei davvero sapere cosa ha funzionato più di tutto per te. Funzionato per la conversione, dici? Beh, vado un po' fuori tema probabilmente, ma quello che è stato davvero illuminante è stato il primo lockdown, quindi anche abbastanza recente, dove si è visto che la natura ha davvero ripreso a respirare e se noi evitiamo di ucciderla con i nostri comportamenti, è stata una sensazione bellissima vedere gli animali che tornavano fuori, le piante che tornavano e il cielo che tornava azzurro, l'acqua a Venezia che tornava limpida e così via. Ma prima di questo devo dire che andare al lavoro per me negli ultimi anni è stato un ritorno all'origine. abitavo, come giustamente hai detto prima, in provincia di Milano e prendevo l'autobus e poi la metro, ma l'autobus era sempre fermo in coda nelle ore di punta e quindi mi chiedevo che senso avesse questa mia attenzione se poi tutti erano per le strade a bloccare il flusso con le auto, quindi l'autobus rimaneva anch'esso bloccato in mezzo alle macchine che erano bloccate nel traffico. Qui vorrei sottolineare un altro aspetto che ritengo surreale e so che mi tiro addosso l'odio di tutti quanti, ma lo dico lo stesso. A Paullo, dove vivevo io vicino a Paullo, sulla Paulese, nota appunto per questi eccessi di traffico, di blocchi eccetera, esiste un comitato pendolari che si è arrabbiato perché c'è traffico sulla Paulese. Seguimi nel ragionamento. Ed è davvero assurdo che le persone si lamentino perché l'auto non può andare più veloce, invece di pensare a due cose. La prima è creare una corsia dedicata agli autobus in modo che funzionino come una metropolitana, quindi senza intoppi. Tra l'altro questa cosa io l'ho scritta nel gruppo dei pendolari e mi hanno detto non si può fare perché poi non c'è spazio per le macchine. E ho alzato le mani a quel punto. La seconda considerazione invece di pensare a fare i pendolari potrebbero creare degli spazi di co-working in ogni paese in accordo con il comune e le aziende per cui lavorano. Quindi cambiare proprio la dinamica e non avere più bisogno di rimanere bloccati nel traffico. Ergo ridurre le macchine sulla Paulese, sulla tangenziale di Milano e guadagnare più ore di vita nella loro quotidianità. Invece il comitato chiede, il comitato appunto questo per i pendolari che devono andare a Milano, chiede più corse, più corsie e questa cosa si commenta da solo in qualche modo. Lo vedo che vivi più felici di prima senza l'auto. Voglio proprio chiedertelo. Esiste un manuale da seguire per smettere di guidare? Una sorta di guida, passami il termine, per superare il distacco da quella che poi è l'indipendenza che il nostro veicolo ci porta? Perché è difficile comunque staccarci da questa indipendenza. Il cambiamento nelle tue abitudini quotidiane, che sensazioni ti fa provare? È bello che mi hai chiesto una guida per non guidare. Questa cosa è bellissima e la immortalerei. Oggi vado a lavoro a piedi perché ho scelto una casa vicina al co-working e un co-working vicino alla casa. Non ho scelto una casa in campagna. Mi avrebbe costretto a muovermi con l'auto anche solo per fare due passi o per andare a prendere la spesa, la verdura o quello che sia. Ed è assurdo questo concetto. Quando abitavo a Fano, tanti anni fa, andavo a lavorare in libreria a piedi perché avevo cercato una casa entro un tot di chilometri, anche se costava un po' di più, ma mi permetteva di non usare l'auto. Non usare l'auto ci permette anche di abbattere evidentemente i costi. Quindi quello che io cerco di risparmiare sull'affitto me lo trovo poi nell'auto, ho solo spostato un centro di costo, come dico io. Quindi le sensazioni che provo oggi sono piacevoli, cammino, ossigeno, ascolto l'aria, annuso l'aria, sento il freddo, il caldo, guardo gli alberi, cammino e poi penso il percorso è breve, 10 minuti. A piedi mi permette proprio di fare questa operazione, ma soprattutto quel pensare, quel riflettere per guardarsi in giro per me è molto importante e dà un valore quel tempo dello spostamento. Non ha lo stesso valore, non avrebbe lo stesso valore se dovessi salire in auto, andare a far benzina, arrecarmi al co-working, lavorare, poi tornare a casa. Io so che quando voglio esco e faccio due passi. Quindi questo equilibrio tra lavoro e casa va ricercato e questa è un po' la ricetta se vuoi. Allora arrivo con una domanda scottante. Tu hai una famiglia composta da almeno quattro persone. aiutaci a capire come può essere sostenibile per una famiglia come la tua vivere senza macchina. Cosa pensa la tua famiglia di questa decisione? È sempre una questione di scelte, torno a ribadirlo. Non devo solo potermi permettere di fare una scelta, ma devo anche ragionarla. Altrimenti non è una scelta di conseguenza. A volte scegliamo di vivere in piccole case in zone centrali delle città o nei paesi più grandi, oppure di vivere in campagna perché vogliamo stare nella natura. Dipende molto dai ritmi della famiglia. Ti assicuro che non è sempre facile. Quando abitavamo in provincia di Milano accompagniamo mio figlio al liceo in autobus e io andavo al lavoro, facevamo un pezzo di strada insieme. Quando abitavamo a Fano, il mio figlio piccolo non riusciva a camminare, andavamo a scuola con un tandem invece dell'auto. Altrimenti camminavamo fino a scuola e tornavamo a piedi ed era mezz'ora andare, mezz'ora tornare. Era anche un bel esercizio, sempre riferito all'ossigenazione, al movimento. In maniera naturale riuscivamo a gestire anche questo. Dobbiamo prenderci il tempo, che è una risorsa preziosa, è il tempo per fare le cose a cui teniamo e fare un tragitto insieme ai figli, oppure fare un tragitto con i colleghi, con il compagno, con la compagna, anche questo è importante. Se so che devo portare mio figlio a calcio, mia figlia a danza o viceversa, dovrò comunque organizzarmi con altri genitori o chiedere se c'è un pulmino, se ci sono mezzi pubblici, eccetera. Comunque questo problema rimane. Un giorno mia moglie si è eslogata una caviglia, malamente, e noi non avevamo l'auto in quel periodo, abitavamo a Fano, per andare al pronto soccorso. Abbiamo chiamato un taxi, non era da ambulanza, però il taxi era necessario perché non potevo caricarla su un tandem, visto che non riusciva a tenere la gamba in posizione. Però queste sono scelte ovviamente che coinvolgono la famiglia. Se noi stiamo cercando, e spero che sia così, di trasformare un po' le nostre vite in qualcosa diverso, in un modello meno consumistico e meno viziato da nostri ritmi che abbiamo ereditato dai nostri genitori, qualche operazione dobbiamo necessariamente farla. E questo va condiviso con la famiglia, bisogna essere convinti e partecipi. Tu parli comunque di tempo, che bisogna dedicarsi del tempo. Questo è uno dei consigli che puoi dare alle famiglie al giorno d'oggi. Spesso non hanno solo una macchina, ma addirittura due. Allora, addirittura anche tre o quattro direi, se per questo, perché la macchina è uno stato simbolo, è sempre stato dentro di noi. La macchina ha un'importanza enorme, più per gli uomini almeno, più della moglie molto spesso. Pensa che parlavo un giorno con un tedesco, mi diceva anche per loro l'automobile è talmente importante che in qualche modo odiano le marche perché hanno le strade malandate. Le marche, le strade secondarie non sono così curate, gli rovinano gli amportizzatori, quindi loro evitano quei posti che non sono raggiungibili senza rovinare le sospensioni delle auto. Ma pensa al costo di un'auto in un anno, non in una settimana. Una settimana è facile, tu sai che fai 20 euro di benzina la settimana, adesso non bastano più, però una volta bastavano. Pensa al fatto se ti serve davvero ogni giorno e quante ore la utilizzi. Se sei in città c'è il car sharing, se sei fuori città o in un borgo valutare la condivisione dell'auto con altre famiglie, con altre persone o qualche formula di cogestione. È possibile anche gestire per esempio delle assicurazioni combinate. Ci sono alcune assicurazioni che si possono intestare a più persone per l'utilizzo che ne fanno. Camminare fa bene, questo è un dato di fatto. Comprarsi un tandem è un'esperienza di relazione, cioè si impara veramente a fidarsi dell'altro, stare davanti, dietro. Questo si crea un legame particolare tra chi guida e chi fa guidare. È un'esperienza che consiglio comunque a prescindere anche da tutti i discorsi che volete fare. Provando a mantenere una sola auto per famiglia, già l'economia della famiglia stessa cambia e anche le dinamiche, cioè non sono più nella condizione in cui dico vado a comprare due zucchine e prendo l'auto. Prendo il tandem, prendo la bici, vado a piedi, mi ritaglio del tempo per fare questa cosa e per magari fare due chiacchiere con la persona con cui vado. Il tempo è la risorsa più preziosa. Noi ci stiamo dimenticando questo e pensiamo che l'auto è quella che ci faccia risparmiare tempo, ma in auto siamo spesso da soli, difficilmente siamo con altre persone. Quindi questo è un cane che si morde la coda alla fine. Perciò ecco, questa è la riflessione che vorrei fare. In primis il concetto economico, meno auto, più disponibilità di soldi in famiglia per fare altre cose. Tanto più in un momento di difficoltà come questo diventa fondamentale tagliare i costi al pari di un'azienda, come se fossimo proprio un'impresa. La prima cosa che si fa nei momenti di crisi è che si tagliano i costi e si massimizzano i guadagni. Quindi questa è l'operazione che andrebbe fatta nell'economia di ogni famiglia. E da qui poi le depressioni ne conseguono. Vuoi stare un po' meglio in salute? Cammina di più, pedala, stai più tempo all'aria aperta, prendi più sole, non ti devi neanche arrabbiare in auto perché non trovi parcheggio o perché litighi con quello in fila che vuole passare davanti. L'auto è un meccanismo anche per accendere tutte le nostre aggressività. Molto spesso io vedo persone che cambiano completamente, ma anche a me succede quando ci incazziamo che uno ci ha tagliato la strada, ci ha superato, ci ha stretto su una rotatoria e quello è tutto stress che va a gravare sul nostro sistema immunitario. Non voglio allargarvi su questo, ma anche questo contribuisce. Quindi per coprire in meno tempo distanze più ampie abbiamo detto allora camminare, bicicletta, tandem, ma quando abbiamo bisogno di andare più lontano, quali sono le alternative che al giorno d'oggi abbiamo a disposizione? È molto semplice. Allora biciclette, bici elettriche, mezzi pubblici, auto a noleggio, le soluzioni ci sono. Basta non pensare che per fare due chilometri devo accendere la mia auto, devo trovare delle soluzioni alternative, ma esistono già. Ora non posso usare la bici perché ci sono troppe salite e sono più delle discese qui ad Offagna, non si capisce come mai, però è così. Ma se potessi andrei sempre e solo in bici. A Fano eravamo, ci soprannominavano una famiglia bicicletta, tutti e quattro in bici, a volte col tandem e sempre con il casco anche quando non era obbligatoria. Quindi eravamo entrati, ma per nostro piacere in una dimensione di trasformazione proprio di questa situazione. Se voi eravate la famiglia bicicletta, Amsterdam può essere la città bicicletta perché esistono città proprio come Amsterdam che hanno fatto ad oggi appunto della bicicletta un marchio che li riconosce a livello mondiale. Pensiamo a Miami dove anche lì moltissima gente si muove con i roller, è fantastico. Sicuramente conosci più esempi di me. Ti faccio una domanda. Quale pensi possa essere il marchio per la mobilità di Offagna se pensassi a un mezzo che non siano i piedi o la bici? È un borgo medievale, non mi dire il cavallo, che è più costoso di un'auto da mantenere forse? Allora, cavallo no, anche perché io ho paura dei cavalli, quindi rischierei di non potermi muovere. In realtà Offagna è l'esempio del prototipo di borgo, di paesino, come ce ne sono tanti, come molti vivono quotidianamente. Io sto progettando già da un po' varie idee e non solo per la mobilità personale. Vorrei eliminare completamente, per esempio, i mezzi della raccolta per i rifiuti. Io guardavo fuori l'altro giorno, il camion che raccoglie la carta è uno di quei camion enormi per raccogliere i rifiuti, quelli che pressano, schiacciano. E io dico, ma quanta carta deve raccogliere qua Offagna, un camion così grande? Perché? Anche perché è un diesel, inquina, è enorme, scalda, cioè tanti contro, scusami e nessun pro. Un mio progetto segretissimo, che non posso dire a nessuno, è di sostituire i mezzi di raccolta con delle cargo bike e creare dei laboratori locali di lavorazione degli scarti. La carta, il vetro, la plastica, il ferro, è tutto lavorabile localmente e dà più senso alla raccolta differenziata, che da sola non rappresenta una salvaguardia del nostro ecosistema. Non rappresenta una riduzione della CO2, anche perché, ti porto il caso della plastica, sono 4-5 le centrali dove viene portata la plastica in Italia, per essere poi tritata, lavorata, ricreata, eccetera. Quindi ci sono dei camion che viaggiano per l'Italia portando in giro i nostri scarti, inquinando per portare la plastica in modo tale che poi noi non inquiniamo. È tutto molto surreale, cioè tutto quello che ci succede intorno. Se noi lo cominciamo a tagliare, analizzare, diventa pazzesco. Questo progetto è molto semplice perché porta appunto la mobilità con delle cargo bike, a pedalata assistita, in modo tale che sia fattibile anche fare delle salite e portare dei carichi, raccogliere quello che sono i rifiuti prima che diventino tali, se no poi la legge di tutela e non permette di essere, non permette di che vengano toccati, raccoglierli prima e poi portarli in un centro che deve essere uno o più per ogni borgo. In questo centro viene poi lavorata da persone che sanno fare lavori artistici, artigianali, anche industriali, usando stampi, usando altre soluzioni e creando occupazione locale. Questa è l'altra parte importante, quindi lo scarto oltre a creare valore crea anche lavoro e economia locale. Un mezzo ideale, per esempio per Offagna, potrebbe essere una microcar elettrica a due posti. Se ne vedono molte in città, appunto come citycar per evitare e ho alcune idee in testa anche come mezzo condiviso della comunità, quindi lasciato in giro, affittabile a ore e quant'altro. Infatti una delle cose che mi ha colpito in un'intervista fatta a uno dei produttori, uno degli ideatori di queste microcar, è che lui mi raccontava proprio il fatto che non aveva fatto un'auto per risolvere i problemi del traffico, ma per risolvere il problema del tempo, il tempo delle persone. Questa cosa mi ha affascinato, lo trovate in un vecchio podcast di Villaggio Saggio ed è molto interessante come prospettiva, ha spostato completamente lo sguardo altrove, non traffico ma tempo, che è una risorsa che vale più dell'oro. Altrimenti delle bici elettriche o delle cargo bike, come dicevamo, a tre vuote per spostare anche gli oggetti per fare la spesa o per consegnare la spesa a domicilio. Il tema della mobilità elettrica è importante e sta soprattutto nella sostenibilità della produzione energetica, perché oggi ci si batte, anche qua c'è molta confusione, ci si confronta spesso su alcune cose che sono giuste per un verso, ma sono di distrazione. guardiamo la bolletta dell'Enel, la bolletta dell'Enel non ha una voce di produzione energetica elettrica legata alle energie rinnovabili, addirittura a delle fonti di carbone e altre cose che dici, ma io sto andando con un'auto elettrica ma la carico con un sistema che invece trae la sua origine da qualcosa che inquina. Il punto deve essere questo, cioè noi dobbiamo produrre una mobilità sostenibile elettrica contenuta e limitando anche l'uso di batterie eccetera eccetera, se siamo in grado localmente di produrre energia, che potrebbe essere da un pannello fotovoltaico, biogas, piuttosto che la stessa pedalata, l'energia cinetica è una delle cose migliori. Faccio un esempio, per guardare la tv la sera devo pedalare sulla mia cicletta per mezz'ora, per un'ora, unisco due cose insieme, invece io oggi dopo il scontato che l'energia tanto me la dà l'Enel e io la prendo da lì senza sapere poi appunto l'impatto di tutto questo. Su queste cose dovremmo riflettere secondo me prima di pensare alla mobilità, se no la più sostenibile sono le nostre scarpe e i nostri piedi che ci portano lontano. Credo sia veramente speciale essere partecipi della tua esperienza perché è sicuramente un esempio per molti, ci fa calare nei panni che non abbiamo mai pensato di poter vestire, spero proprio che possa diventare la nuova tendenza del 2022, una mobilità più sostenibile. Tu ti chiedi se ha ancora senso usare l'auto oggi, perché? Beh perché è fattibile, se ci ragioniamo l'auto è davvero una delle peggiori cose che possiamo avere nella nostra vita. Vedi come sono possibilista io in queste mie interviste. Allora sulle strade muoiono ogni anno 4.000 persone, 4.000 persone l'anno, cioè vuol dire che un intero paese sparisce ogni anno. La benzina ormai non inquina più, infatti anche questo è un falso mito, inquinano di più le caldaie di casa che non hanno la marmita catalitica. La benzina ormai è diventata quasi acqua, talmente l'hanno diluita. Però proprio perché hanno diluito troppo la benzina i motori sono sempre più potenti e scaldano sempre di più. Quindi l'obiettivo di abbattere la CO2 diventa davvero un obiettivo irraggiungibile. Però per esempio dell'auto inquina di più la polvere dei freni, lo scarto degli pneumatici, sull'asfalto o quello che si disfa proprio nell'atmosfera. Queste sono le cose a cui dobbiamo pensare. E non ultimo, adesso anche il costo dei carburanti che continua a salire. Quindi già questo mi fa dire forse dovrei rinunciare all'auto in qualche modo. La domanda è, nel 2000 aspettavamo le auto volanti. Oggi guidiamo dei pezzi di ferro che vanno a combustione fossile. Dove è finito il progresso tra le auto volanti e la combustione fossile uguale a quella che c'era inizio secolo, anzi secolo scorso? Dove è finito il progresso che ci doveva aiutare a trovare una vita migliore? Siamo schiavi dell'auto o liberi da essa? La domanda che mi viene da fare. Oggi siamo abituati ormai alle consuetudine, alle abitudini. Quindi bisogna avere l'auto per andare al lavoro. E lavoriamo perché dobbiamo pagare l'auto. Ma che scherzo, è importante. O lavoriamo così possiamo comprarci l'auto. Sono tutti dei meccanismi dove ci incastriamo nei nostri discorsi pensando poi di trovare delle vere soluzioni, delle risposte. Cerchiamo degli alibi per avere un'auto. Quindi questo è il tema. Perché no? Perché non farlo? Visto che questo non è salutare per la nostra vita alla fin fine. In che modo pensi possa cambiare il mondo, adottare uno stile di vita sostenibile? Soprattutto partendo dalla mobilità, perché questo è il nostro scopo principale, il primo. Beh, anche qua c'è molto da riflettere. La primissima cosa è il lavoro. Quando noi vogliamo risolvere il problema dell'auto, dobbiamo prima risolvere il problema del lavoro, cioè cambiare visione. La pandemia ci ha fatto vedere qualcosa che noi avevamo sotto gli occhi, ma continuavamo a ignorare. Perché, pensaci, quando c'è stato il lockdown ci siamo resi conto che, oddio, possiamo anche lavorare da casa. Tutto sommato non è così male alla fin fine. La pandemia ci ha mostrato che non abbiamo bisogno di andare al lavoro, ma che abbiamo bisogno di lavorare. Il pendolarismo ci ruba due ore al giorno di media ed è un tempo quello che poi non torna più. Non è un tempo, cioè tu puoi ascoltarti i podcast, puoi ascoltarti la musica, puoi ascoltare un audiolibro, se hai qualcuno in macchina puoi fare due chiacchiere. Però è un tempo sprecato alla fin fine. Sono 14 ore alla settimana. Facciamo i conti della serva proprio. 56 ore al mese, 600 ore all'anno. Ovvero 25 giorni dell'anno tu stai facendo il pendolare. Un mese su 12 noi lo passiamo in auto solo per andare al lavoro. Io ho i brevidi solo a dirle queste cose. Un mese all'anno vuol dire che fai il conto su 50 anni quanti mesi hai sprecato, quanti anni hai buttato in questa operazione. È pazzesco. Cioè io solo solo queste cose. Guarda, è stato il mio primo pensiero da cui ho nato Villaggio Saggio, ma già questo mi bastava per avere la pelle d'occa. Io qui parlo di pendolarismo. Poi capisco che occorre raggiungere un cliente serva l'auto. Se serve l'auto per andare in un posto specifico e non arrivano i mezzi serve anche in quel caso. Ma parlo di possedere un'auto propria e di fare avanti e indietro tutti i giorni. Questo è quello contro cui mi batto in qualche modo. Perché abbiamo appena dimostrato con una serie di riflessioni che è assurdo. Già questo. Non dico che l'auto non debba esistere. Però la metafora dell'auto deve cambiare. Vado a fare la spesa e compro due mozzarella, il sugo, la pasta, il pane e torno a casa. Ho speso più e ho inquinato di più solo per andare a comprare queste quattro cose? Parentesi. Qualcuno ha preso un camion e le ha portate dalla fabbrica fino al supermercato. Il supermercato tiene queste cose in un frigorifero che produce CO2. Il produttore delle mozzarella e della pasta, eccetera, ha ricevuto le materie prime per lavorare questo. Cioè pensate a solo il circuito che si è attivato per due mozzarella e un sugo la pasta e il pane. Cioè il risultato finale non è comparabile a tutto quello che è successo prima e noi non ci pensiamo. Ma perché non possiamo organizzarci per esempio con un'app di quartiere dove fare la spesa online o farcela consegnare a casa in modo tale che uno ottimizza. Invece di muovere 50 macchine in un quartiere c'è un furgoncino magari elettrico che fa il giro e fa le consegne. Qui apriamo un altro capitolo che è quello alimentare e degli approvvigionamenti ma ne parliamo magari in un'altra puntata di questo podcast. Se vogliamo andare in vacanza posso prendere il treno, magari non l'aereo perché non è proprio il massimo della salubrità ambientale. Oppure noleggiare un'auto. Anche noleggiare un'auto, io stesso l'ho fatto, ti garantisce che poi hai un'auto sempre efficiente, in buono stato, manutenzionata, anche un'auto sicura perché potrò noleggiare anche un'auto più importante di quella che normalmente posso permettermi perché ho quel budget e lo posso destinare a quello. Se voglio fare un trasloco affitto un furgone, non compro, non tengo un furgone di discorta per quando farò un trasloco. Scegliere dove vivere è il primo passo per fare questo cambiamento. Quindi quando faccio i conti sull'affitto dico eh non posso permettermi questo affitto perché devo pagare quattro auto. Prova a rinunciare a tre auto. Magari puoi permetterti un affitto più grande in una zona che è più vicina a quello che ti serve. Questo è il ragionamento. Pensi che al giorno d'oggi questa sia davvero un'evoluzione che il genere umano sia pronta ad affrontare? Non abbiamo altri 50 anni per fare questa scelta. Oggi è il momento in cui fare questi ragionamenti e condividerli insieme. Oggi è il momento in cui dobbiamo iniziare a prendere consapevolezza di questo e i mezzi di informazione, di comunicazione, i social ci permettono di approfondire queste tematiche. Credo che sia importante capire anche guardando la pubblicità delle auto che l'industria dell'auto è molto forte e sarà difficile fare un reale cambiamento. Quando vedi la pubblicità lo capisci. L'auto ti rende sicuro di te, affronti meglio la vita, sei un vincente e questo crea anche dei grossi problemi. Se hai i soldi puoi essere un vero vincente, altrimenti no. Devi accontentarti di un'auto usata di quarta mano, 1500 euro con i freni rotti. Ma aspetta, posso dartela anche a piccole rate questo sogno, questo senso di sicurezza. Se vuoi ti do piccole rate, compreso l'iPhone, l'abbonamento a Netflix e così via. Quindi il sistema auto ci sta viziando in qualche modo in una condizione che non vuole cambiare, perché il sistema auto non ha interesse che venga cambiato, ha interesse a produrre auto. Vorrei fare un'altra riflessione che pongo spesso. Eco-incentivi, per esempio, se ne parla tanto, eco-incentivi per l'auto. Se compri l'auto dei tuoi sogni, un incubo di debiti e consumi altissimi, tradotto nel nostro ragionamento, ti diamo gli eco-incentivi. Eco, in questo caso, sta per economico, ma io nella mia testa registro come ecologico. Quindi sono bravo perché ho gli eco-incentivi e compro magari un'auto elettrica che si alimenta con le centrali a carbone. Anche questa è una riflessione che è importante portarsi a casa. Allora, un'auto costa 20.000 euro, tu la paghi 15 con gli eco-incentivi. Quindi lo Stato ci regala 5.000 euro. Per andare in giro sulla mia macchina, ma se la stessa cifra io la investissi in un co-working in un paese, o quartiere, o borgo, quello che sia. E cercando di creare nuova economia locale, lavorare da casa, vicino a casa in questo caso, inquinerei meno, avere più tempo, stare con la famiglia, più ore, mangierei a casa. E potrei fare anche in modo che, dividendo l'ufficio con altri, magari creo anche nuove rete, guadagno anche dall'affitto delle postazioni, o almeno copro le spese, mentre l'auto è completamente un sistema in rimessa alla fin fine, se pensate a tutte le voci che rientrano. Quindi direi che l'auto alla fine non è proprio un buon affare. Forse ci sono altri affari che sono meglio indicizzati. Vorresti aggiungere qualcos'altro? Guarda, ti racconto un episodio buffo che ancora oggi mi fa ridere. Noi andavamo a fare la spesa con il tandem. Il tandem, lo zaino in spalla, mia moglie dietro, due borse laterali davanti, due dietro. Noi riempivamo tutto. Era proprio un mezzo di trasporto unico. Un giorno ero fuori dal supermercato, aspettavo mia moglie che uscisse e mi si avvicinano a due ragazzi di colore che vendevano le solite cose fuori, gli accendini. Chiacchierano, erano incuriositi. Ah, ma il tandem non l'ho mai visto, ma come funziona? Mi chiedevano cose tecniche, mi divertivo anche a raccontargli. E poi gli dico, ma sai, ho questo per fare la spesa. Ma come? Non hai l'auto? Mi dicono. Ma stupiti, ma molto. E gli dico, ma come fai a fare la spesa in bici? Beh, vedi, gli ho spiegato, metto qua, metto là. E loro erano rimasti perplessi, mi hanno chiesto, ma non hai l'auto? Ma è impossibile? Ma tutti in Italia hanno l'auto? Cioè, io ancora rido all'idea della loro faccia, ma erano realmente increduli che un italiano potesse, un italiano, ma ecco, l'ho geolocalizzato in realtà, probabilmente è un problema diffuso, pensavano quasi che fossi uno sfigato, no? Cioè, loro davano dello sfigato a me perché non avevo l'auto. E tutta questa situazione mi è sembrata surreale perché siamo passati dalla curiosità a loro che quasi mi mandavano via, come dire, ma vai via, non conti niente, tu cai la bici. Beh, mi sembra che abbiamo toccato comunque molti temi, sicuramente potremmo fare degli approfondimenti. Mi piacerebbe che il nostro pubblico potesse farti delle domande, anche sulla tua esperienza. Grazie Simona, vorrei chiudere con un'ultima frase dicendo che più che dare risposte mi piacerebbe porre delle domande, quindi insieme a te è stato possibile fare questa puntata in cui ci siamo confrontati, in cui in effetti tutti si è tolta dei dubbi su alcune operatività di villaggio saggio, su come potevano essere possibili, ma in realtà sono domande che possono avvenire a molti, ma se hai notato quello che facciamo è ragionare, ragionare insieme, porci delle domande e cercare delle risposte, non dare mai nulla per scontato, cioè non pensare sì questa cosa è così e non si può fare in un altro modo. Intanto capiamo se questa cosa, che sia l'auto, che sia il cibo, che sia qualsiasi cosa, o lavoro anche, questa cosa fa bene a me, a me personalmente, se non mi fa bene per qualche motivo economico, di salute, psicologico, emotivo, quello che vuoi, allora devo pormi delle domande. Se mi va bene e non ho problemi, probabilmente la comunità dovrà porsi delle domande, ma quello è un altro livello, però già se partiamo da queste cose, guarda le considerazioni sul lavoro, sull'inquinamento, dove troviamo le risorse energetiche per le nostre auto elettriche, per i monopattini, ci sono tutte valutazioni che sono fondamentali fare, domande da farsi e poi uno accetta, decide, però è importante saperle, che se io non so che la corrente che mi viene data per la mia auto elettrica viene generata da una centrale al carbone e mi manca un pezzo proprio del mio ragionamento, ho fatto una scelta senza capire che scelta stavo facendo e non è un atteggiamento secondo me da persone responsabili, attente e che si vogliono bene. Tutto qua. Io ringrazio tutti, ringrazio molto te Simona e spero di continuare queste nostre puntate a approfondimento perché servono anche a me per allineare un po' le idee e raccontare qualche aneddoto poi del passato. Grazie Simona. Grazie Cristian. Hai ascoltato il podcast di Villagio Saggio? Condividi questo audio, seguici su www.villagiosaggio.it, partecipa nei nostri social e contattaci se vuoi raccontare il tuo progetto di economia circolare.